Io tengo il gozo e mi ama, gozo e mi ama, gozo e mi ama e mi sei, alleluia. Un incontro spontaneo e pieno di gioia è quello che ha avuto luogo tra Papa Vergoglio e alcuni bambini provenienti dai cinque continenti lo scorso 22 febbraio. Dopo l'uscita del libro L'amore prima del mondo, Papa Francesco scrive ai bambini, edito dalla Loyola Press dei Gesuiti americani in 14 lingue. Dopo aver salutato i piccoli giunti in Vaticano in rappresentanza di quanti hanno scritto a Papa Vergoglio e dopo aver ricevuto i loro regali dai cioccolatini del Belgio allo sciroppo d'acero del Canada, da un fischietto irlandese a una ciotola fatta di conchiglie delle Filippine, Papa Francesco ha risposto ad altri interrogativi rivolti dai bambini, riconoscendo che quelle dei piccoli sono le domande più difficili perché i bimbi hanno la capacità di vedere l'essenziale. Il pontefice è così ricordato quando da bambino voleva fare il macellaio, raccontando quali sono i momenti di preghiera nelle sue giornate, illustrando anche nuovamente alcuni momenti dell'elezione. E quando gli hanno chiesto quale sia l'aspetto migliore dell'essere Papa, non ha avuto esitazioni. Essere con la gente, essere vicino alla gente mi piace tanto perché tu sei con un anziano, con un bambino, con un ragazzo, una ragazza, con un uomo grande e ognuno ti insegna qualcosa della vita e ti fa vivere la vita e si fa il rapporto con la gente. Le domande si sono susseguite tra sorrisi e battute, toccando anche temi personali. Come ci si sente essere Papa? Mi sento tranquillo al risposto, ma è perché Dio mi dà la grazia di non perdere la pace. La vita di una persona non è così sempre. La vita di una persona è così. Ci sono momenti gioiosi. E ci sono momenti dove tu sei giù. Ci sono momenti di grande amore a Gesù e ai compagni e a tutta la gente. Ci sono momenti dove l'amore alla gente non c'è e tu sei un po' traditore all'amore di Gesù. Ci sono momenti dove tu sembri di essere più santo e altri momenti dove tu sei più pecatore. La mia vita è così. Non è spaventarti mai se tu vivi un momento brutto. Non è spaventarti mai se tu fai un peccato. L'amore di Gesù è più grande di tutto quello. Va da Lui e lasciati abbracciare da Lui. Tu che amore provi per Gesù Cristo, per Dio? Io non so se veramente amo Gesù Cristo. Cerco di amarlo. Ma sono sicuro che Lui mi ama. Di quello sono sicurissimo.